Prosegue il nostro racconto qui da Sanremo in gara con il suo brano Vai Bene Così Anche, Leo Gasman, ben trovato. Grazie ragazzi, è un piacere essere qui, è un piacere. È un piacere anche nostro, tranquillo, sereno, non vedi l'ora, anche prima dell'intervista ti ho visto proprio sereno, contento. Sì, sono serenissimo, sono felice, onorato di aver avuto questa possibilità e di essere riuscito a sfruttarla. Ho gareggiato con un mio grande amico, un grande artista, ed è stato un bellissimo confronto musicale e sono felice di aver potuto portare il mio messaggio. Vai Bene Così è un messaggio importante, non è scontato dirsi anche alla tua età, tu sei molto giovane, vai bene così, vado bene così, tu te lo dici ogni tanto. Sì, guarda, questo nasce proprio da una riflessione, una sorta, in realtà più che una canzone è un dialogo che cerco di fare con la gente, che non riesce ad accettarsi per gli errori che commenta o i fallimenti che subisce, ed era una canzone autobiografica all'inizio, poi mi sono reso conto che il messaggio sarebbe stato bello poterlo portare ad altre persone che avevano vissuto il mio stesso sentimento. E Strike, è questo il titolo del tuo nuovo album che uscirà brevissimo, Strike è un titolo importante, cioè vuol dire facciamo centro. Sì, Strike è anche questo, ma è anche il titolo di un brano che dà nome appunto all'album ed sarà un album che sorprenderà perché comunque lì ho avuto la possibilità di sviluppare una mia sonorità e sorprenderà perché i brani sono tutti molto diversi tra loro ma con un filo conduttore che è appunto lo stile musicale. E quindi sarà sicuramente, ci sarà del rock and roll, ci sarà del pop, ci saranno delle canzoni più balla e da inglesi, un po' alla Ben Howard. Wow, noi ti facciamo un grande augurio per l'album, per gli appuntamenti prossimi che verranno anche live e anche per un altro progetto in parallelo che tu porti avanti insieme al tuo papà che è Contro il Bullismo, vuoi dirci due parole riguardo per chiudere? Assolutamente, e venerdì sarà la giornata nazionale contro il bullismo ed è io, faccio parte di questo centro nazionale contro il bullismo chiamato Bulli Stop e capitanato da Giovanna Pini. Siamo dei ragazzi che organizzano tutti gli anni uno spettacolo contro il bullismo dove uniamo ex bulli e persone bullizzate che insieme si uniscono per fare uno spettacolo teatrale, portare un messaggio e fare del bene sociale. Grazie, grazie Leo Gasman su Belle Limonelle, a presto. Grazie mille, grazie ragazzi.